Buongiorno, buongiorno, ma cominciamo a dire, ok non c'è fotografico, non c'è, buongiorno, poi chiama qualcuno, mi chiama qualcuno, pronto? Ok, chiama, parli. Pronto? Pronto? Sono io, Anifio. Sono tu, Anifio, come stai? Volevo dirvi che avete dimenticato le vostre chiavi di casa in chiesa. Madonna mia! Insieme al vostro telefono! Madonna, tutti i nostri cose in chiesa! Sì! Ma cosa dobbiamo fare adesso? Ma siete riuscite ad entrare in casa? No, siamo fuori adesso. Oh, Anifio, dovete ritornare in chiesa, mi dispiace prima che io rubino le chiavi di casa. Ok, subito! Mi riuscite ai soldi! Ok, ma abbiamo un'altra chiave, che siamo dentro a casa. Cosa dobbiamo fare adesso? Dovete riprendere la vostra chiave dimenticata. Ok, ok. Ok, ok. Non ricord me. Non ricord me, non ricord me. Ricord you, ricord you, ricord me. Ok, non ricord me. Ok, ok. Oh, oh, oh.